C'è un'emergenza sanitaria che preoccupa parecchio la Commissione europea ed è la resistenza agli antibiotici. In Europa 25.000 persone ogni anno muoiono proprio perché questi farmaci importanti contro malattie molto gravi non fanno più effetto, un miliardo e mezzo costa ai paesi europei gestire questa situazione. Di chi è la colpa? Purtroppo è soprattutto nostra perché tendiamo ad abusare degli antibiotici, li prendiamo senza la prescrizione medica. Quando non c'è l'indicazione per questi farmaci soprattutto molti di noi interrompono a metà la terapia e in questo modo fanno selezionare dei batteri che poi sono resistenti a quel farmaco, a quel principio attivo. Quando serve la prossima volta purtroppo non funziona più. Pensiamoci ora che è inverno e che probabilmente il nostro medico solo se serve ci prescriverà gli antibiotici. E parliamo adesso di errori in sanità che non sempre sono dati dalla incapacità di chi ci cura negli ospedali. Qualche volta capita che ci siano delle distrazioni dovute proprio alla mancanza di una figura qui nel nostro paese che sarebbe essenziale, quella del risk manager. Ogni anno ci sono 35.000 nuove cause contro la mala sanità e questo personaggio, chi si occupa del rischio, è una figura che esiste all'estero, potrebbe aiutare a ridurre questa conflittualità tra il malato, cittadino malato e le istituzioni sanitarie. Benvenuto al Presidente della Fondazione Sicurezza in Sanità, Donorevole Vasco Giannotti, benvenuto ad Ippocrate. Allora voi come Istituto Superiore di Sanità, Fondazione ed altre strutture, che cosa avete puntualizzato per quel che riguarda il risk manager? In minima parte gli errori in sanità sono dovuti ad errori umani. La grande maggioranza dei casi, l'80% e più, i danni al paziente sono provocati da errori di organizzazione. Ed allora ecco perché la figura del risk manager è essenziale, ma attenzione, non solo una figura a cui delegare il tutto. Il risk manager deve avere la capacità di far sì che nella governance dell'azienda e quindi tutti gli aspetti organizzativi, in qualche modo l'attenzione alla sicurezza e alla qualità delle cure diventi l'elemento preponderato. Per esempio Giannotti, lei ricorderà quel drammatico fatto, successo due o tre anni fa a Castellaneta in provincia di Taranto, in Puglia, dove otto pazienti morirono, peraltro in un ospedale nuovissimo, appena ristrutturato, perché erano stati scambiati i tubi, invece dell'ossigeno gli era stato dato azoto. Il risk manager potrebbe intervenire in casi del genere? Ma certo, ad esempio al prossimo forum risk management di Arezzo, che si aprirà martedì prossimo, 22, noi porteremo tra le tante cose la seconda assemblea degli ospedali per la sicurezza nelle sale operatorie. Applicazione delle raccomandazioni e della checklist per la sicurezza. Bene, da indagini che porteremo, soltanto il 47% delle sale operatorie rispetta queste raccomandazioni. I canoni della sicurezza. E da un'indagine ormai compiuta su dati statistici verificati sul campo, laddove si applicano le raccomandazioni, abbiamo avuto una caduta del 50% degli errori in sale operatoria e non solo errori banali, ad esempio anche l'errore del sito, cioè quando si opera magari un braccio testo, invece di quello malato. Quindi l'attenzione alle regole, appunto, è ciò che può determinare davvero un elemento di maggiore sicurezza per il cittadino. Presidente, non è una novità questa figura, quella del risk manager all'estero, c'è da decenni e funziona anche abbastanza bene. Perché nel nostro Paese continuiamo a parlarne da anni ma poi negli ospedali non c'è? No, in verità negli ultimi anni c'è stata una grande diffusione di questa figura, non ovunque, in alcune regioni di più, in altre regioni di meno. Credo che bisogna cercare di spingere l'insieme delle aziende sanitarie, ripeto, non solo nominare una figura a delegare adesso, ma nominando la figura del risk manager a riorganizzare complessivamente i propri percorsi clinici, assistenziali e organizzativi per mettere, ripeto, al primo punto la questione della sicurezza. Parliamo ad esempio di federalismo? Ecco, uno degli indicatori su cui mi piacerebbe che confrontassimo il risultato del federalismo è che il cittadino di Catania o il cittadino di Milano o della Toscana rispetto alla sicurezza abbia le stesse identiche garanzie in qualsiasi ospedale dove egli è destinato ad andare. Ci dobbiamo tornare perché è bello ampio il discorso sulla sicurezza negli ospedali. Grazie all'onorevole Gianotti che è stato con noi. Noi chiudiamo Ippocrate, ipocratechiocciolarai.it per poterci scrivere. Io vi aspetto lunedì mattina alle 10.30 a suggerire Parlamento con articolo 32. Se volete sabato prossimo alle 18 qui su Rai News torna Ippocrate il diritto alla salute. Ciao. Ciao. Ciao.